La possibilità di gestire questi pazienti in queste fasi in maniera efficace, con una protezione che sia nello stesso tempo biomeccanicamente importante, ma nello stesso tempo compatibile con una vita attiva vicina alla normalità, consente da una parte di migliorare la possibilità di protezione del piede, ma dall'altra anche di migliorare la qualità della vita di questi pazienti. La possibilità di avere un prodotto come YDA che coniuga le esigenze di scarico e di protezione del piede con aspetti rilevanti per il paziente da un punto di vista personale come l'estetica e la fruibilità, consente di aumentare anche quella che viene chiamata la compliance, cioè l'effettiva aderenza del paziente al programma terapeutico. Grazie a tutti.